Non è la stessa cosa, ciao Bella a tutti da me Signorino assente per motivi non ho capito se di famiglia o di salute Ma detto questo, prima di continuare vi invito a scaricare tramite link in descrizione OneFootball A mio modo di vedere la migliore applicazione per seguire tutto il mondo del calcio Applicazione gratuita per iOS e Android Vi do un consiglio, provatela Sono sicuro che non ve ne pentirete Giornata di Champions League decisiva per parecchie squadre Di conseguenza facciamo attenzione e andiamo a fare i pronostici di questa settimana 13 partite ho scelto per voi Quindi bisogna essere particolarmente rapidi Andrei subito sul girone del Napoli Perché ragazzi c'è Salisburgo, Liverpool ma anche Napoli Genk Quindi facciamo attenzione a questi scontri Vi ricordo di seguirmi anche sul mio canale Telegram perché domani pubblicherò la mia schedina Esattamente la schedina che mi giocherò per queste partite di Champions League Trovate il link in descrizione Salisburgo, Liverpool Facciamo attenzione perché sto Salisburgo ha fatto in 5 partite qualcosa come 16 reti Ne ha subite 11 quindi è una squadra che fa tanti gol ma ne subisce anche parecchi Liverpool che ragazzi potrebbe anche clamorosamente uscire fuori qualora non dovesse portarsi a casa un risultato positivo Infatti il Liverpool passa il turno con un pareggio o se il Napoli perde contro il Genk Il Salisburgo passa il turno se batte il Liverpool e il Napoli non batte il Genk Se il Napoli vince il Salisburgo deve battere il Liverpool con un risultato migliore del 4-3 con cui ha perso alla seconda giornata per qualificarsi Insomma una situazione di quelle esagerate Io sinceramente non mi sento di dire vincerà il Liverpool, pareggeranno o vincerà il Salisburgo Mi sento che sepieranno a capocciate, a sportellate un gol sicuramente il Salisburgo lo farà Ma anche il Liverpool ovviamente non starà a guardare e a sua volta farà un gol al Salisburgo Sei d'accordo? È d'accordo Chi tace ha consente Ti ho detto questo molto rapidamente, Napoli Genk ragazzi A Napoli basta un punto per qualificarsi Ma io credo che in casa contro questo Genk che sembra veramente poca roba Perché comunque ha fatto solamente un punto in 5 partite di Champions League Credo che si porteranno a casa la vittoria Senza troppi problemi Vittoria secca e sta a posto così Andiamo al girone dell'Inter Anche questo è un girone molto particolare L'Inter si gioca tutto e ripeto Tutto all'ultima partita in casa proprio contro il Barcellona Ma fate attenzione perché Messi non sarà della partita Fate attenzione perché il Barcellona è già qualificato Fate attenzione perché Inter e Borussia attualmente hanno gli stessi punti Dovesse vincere l'Inter e dovesse vincere il Borussia In vista degli scontri diretti passerebbe l'Inter Perché in casa ha vinto 2-0 Mentre lì da loro ha perso 3-2 Ma io sinceramente con un Barcellona già qualificato e sicuro del primo posto Mi sento di dire che Sturatevi bene le orecchie Molto probabilmente l'Inter si porterà a casa il bottino pieno E quindi i tre punti Io pronostico una vittoria per l'Inter Ma andiamo anche a Borussia Dortmund Slavia Praga Perché vi dico molto semplicemente Che secondo me il Borussia Dortmund farà del tutto Per provare a qualificarsi per gli ottavi di Champions League E quindi contro lo Slavia Praga Vincerà in casa senza troppi problemi Lo ripeto Vittoria per l'Inter Ma anche vittoria per il Borussia Dortmund Andiamo avanti E voglio andare ad Ajax Valencia Un altro turno particolare di Champions League Perché? Perché l'Ajax ha 10 punti in 5 partite giocate Subito dietro c'è il Valencia e il Chelsea Che se la lottano per un posto Proprio agli ottavi di Champions League Allora l'Ajax passa il turno con un pareggio Oppure se il Chelsea non batte il Lille Il Valencia passa il turno se batte l'Ajax Oppure se finisce a pari punti con il Chelsea Grazie alla superiorità ovviamente negli scontri diretti Il Chelsea passa il turno se batte il Lille Oppure se pareggia e il Valencia perde contro l'Ajax Una situazione di quelle veramente particolari ed esagerate Io mi sento di dire che in Ajax Valencia Molto probabilmente l'Ajax farà almeno un gol Visto che ne ha fatti 12 finora I migliori del girone in termini di gol fatti Ma anche in termini di punti Il Valencia da secondo in classifica con 8 reti fatte Non starà a guardare E in casa dell'Ajax sicuramente un gol Glielo appizzerà E quindi andiamo anche all'altra partita del girone Chelsea-Lille Io la vedo semplicissima Il Chelsea batterà in casa il Lille Che finora ha fatto solamente un punto Solamente 3 gol fatti e addirittura 12 subiti Quindi prevedo una vittoria tranquillissima per il Chelsea Chi lo sa Magari si qualificherà l'Ajax da prima E il Chelsea da seconda in classifica Chi può dirlo Andiamo avanti E Andrei nel girone di un'altra italiana Che attualmente ragazzi si trova ultima in classifica Ma che ha ancora una grande Grandissima possibilità di qualificarsi Per gli ottavi di finale di Champions League Sto parlando dell'Atalanta Se la va a giocare in Ucraina contro lo Shakhtar Shakhtar Donetsk Chiamatelo come volete Ma molto dipenderà non solo dalla partita dell'Atalanta Ma anche dall'altro scontro Dinamo Zagabria-Manchester City Manchester City già sicuro del primo posto qualificato E chi lo sa quindi potrebbe concedere Qualcosina alla Dinamo Zagabria Quindi Per quanto riguarda Shakhtar Atalanta L'Atalanta farà di tutto Per vincere questa partita e poi sperare in un risultato positivo Dell'altro scontro Io pronostico una vittoria dell'Atalanta O al massimo un pareggio Difficilmente lo Shakhtar Riuscirà a portarsi a casa la vittoria Ma fate attenzione perché qualora dovesse vince Ovviamente sarebbe lo Shakhtar Ad andare agli ottavi di finale Ma non lo so perché io prevedo un'Atalanta Proprio di quelle Con la bava alla bocca E potrebbe riuscire nell'impresa almeno della vittoria Ripeto però Fate attenzione potrebbe anche pareggiarla Dall'altra parte invece Manchester City che non ha assolutamente nulla da dire a questa Champions League Si è già qualificato Potrebbe concedere molto alla Dinamo Zagabria Anche perché è una partita che si va a giocare in trasferta E quindi pronostico un gol per entrambe Un gol per la Dinamo Zagabria E almeno un gol per il Manchester City Andiamo molto rapidamente nel girone di Real Madrid e Paris Saint Germain Paris Saint Germain e Galatasaray Prevedo una vittoria tranquilla Da parte del Paris Saint Germain Che se la gioca in casa È già qualificato con 13 punti Il primo posto non glielo toglie nessuno Ma secondo me contro questo Galatasaray Che in questa Champions League ha dimostrato veramente poco Non avrà difficoltà a vincere ancora una volta Per quanto riguarda Real Madrid Sicuro del secondo posto in classifica Non può arrivare primo Non ha appunto più nulla da dire In questi gironi di Champions League Ma con il Club Bruges Probabilmente venderà cara la pelle Molto probabilmente Proverà comunque a vincere questo match Visto anche il divario tecnico-tattico Tra le due compagini Quindi dico che Club Bruges-Real Madrid O vince il Real Madrid O al massimo il Club Bruges Riesce a strappare un pareggio Molto rapidamente andiamo nel girone del Bayern Monaco E del Tottenham Che si affrontano in uno scontro diretto È già tutto deciso però Perché il Bayern Monaco è qualificato da primo Il Tottenham è qualificato da seconda in classifica Giocano in casa del Bayern di Monaco Mourinho però Vuole metterci cattiveria Negli scontri di Champions League E dimostrare Che è un grande allenatore Che allena una grande squadra Quindi pronostico Un gol per entrambe Chiudiamo con il girone Della Juventus Juventus Già sicura Al 100% Del primo posto Atletico Madrid Invece Che potrebbe rischiare Qualcosina L'Atletico Madrid Se la gioca in casa Contro la Locomotive Mosca E ha bisogno Assoluto Di una vittoria Per essere certo Del secondo posto Nel girone E secondo me Molto probabilmente La vittoria Se la porterà a casa Quindi pronostico Una vittoria Dell'Atletico Madrid Mentre per quanto riguarda Bayer Leverkusen Juventus Ragazzi La Juventus Ha veramente poco da dire Quel che doveva fare Lo ha già fatto Nei cinque scontri precedenti Può essere una trasferta Ostica e insidiosa Il Leverkusen Ancora in corsa Eventualmente Per provare Ad agganciare Il secondo posto E quindi Qualificarsi Secondo me In totale Nel match Avverranno Due o più Reti Detto questo I pronostici Di Champions League Di questa settimana Sono terminati Io ringrazio Il buon Fabio Per la partecipazione Cioè C'hai messo Proprio Tutto te stesso Per fare questi pronostici Una cosa De quella De quelle Mi piace Commentate Condividete Iscrivetevi Al mio canale Qualora non lo aveste Ancora fatto Lasciate tanti mi piace Per far continuare La serie dei pronostici Di Champions League Detto questo Scaricate OneFootball Seguitemi su tutti i miei profili social Vi ricordo Soprattutto Telegram Seguitemi Anche su Telegram Perché domani pubblicherò La mia schedina E ci vediamo Alla prossima Ovviamente Con un nuovo video Dei pronostici Grazie ancora Fabio Sei stato veramente Molto 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 gentile Bella Grazie a tutti i miei profili Grazie a tutti i miei profili